è impensabile sono qui che aspetto da mezz'ora che bontà mamma mia è un vampiro oh no è succo di pomodoro aspetta tornate oggi c'è lo sconto del 50 ed è per tutti 50 per cento sì io ci sto dunque dove eravamo sì i guanti perfetto sono pronta entra pure buon natale sto scherzando ciao ero solo di passaggio ho visto l'insegna voglio il mio logo sul braccio puoi farlo che ci vuole non ci vorrà molto solo che cosa c'è che non va non funziona non penetra che strano dai funziona adesso oh no si è rotta ma come non va bene ti avrei dato questi ma aspetta per favore non andare via cosa guarda verso di me nei tuoi occhi finalmente ora fammi vedere come usi gli occhi come laser forza collabora guarda qui no per favore non farlo beh non pensavo sarebbe andata così ok mettiamoci al lavoro sì ora va meglio fai il bravo e rendimi orgogliosa perfetto il tatuaggio è fatto svegliati insomma ti piace ma ti piace ma volevo questo e invece tu mi hai fatto tutt'altro davvero arrabbiato non ho altre opzioni guardami negli occhi ora dammi i soldi soldi e arrivederci addio bravo ragazzo ehi non rovinarmi il tetto almeno se n'è andato ciao bellissima ciao come posso aiutarti sono così emozionata di essere qui guarda che cosa no sì voglio che mi tatui questo fungo e lo voglio qui figo cominciamo allora e sentirai un pizzico oh no ho paura degli aghi ho cambiato idea per favore resta ho un'idea ti piacerà e non farà male vedi te lo applicherò qui e lo renderò super lucente è una bellissima idea per un tatuaggio diamo un'occhiata wow è così figo è proprio come lo volevo grazie mille ma cos'è sarà un terremoto non credo forse ma che ci fa qui lui ciao principessa ti ho cercato ovunque meno male che ti ho trovata oh ecco mi stavo per dimenticare mia principessa mi vorresti sposare cosa dovrei fare state decidere oh dai ragazzi ditemi che cosa dovrei fare qui sotto sì oppure no per favore aiutatemi quindi un sì grazie sì mario ti amo anche io ti amo ciao aspetta i soldi se ne sono andati uso questo o questo ma che cos'è ciao voglio una pakebol proprio qui e la voglio luminosa e colorata proprio come quella di pakebol ci metterò un attimo cominciamo oh accidenti ma che cos'è non ce la faccio che male ops mi dispiace ma credo di sapere come fare e dai un'occhiata su wow ma cos'è è una nuova macchina per tatuaggi la chiamo burattinaio tranquillo e sicura wow che figata ora prendi tu la penna e cominciamo stai facendo un ottimo lavoro sì è come lo volevo mi piace una vera pakebol eccoti i soldi che faticaccia oh non di nuovo lascia mi andare ti supplico ops grazie e ciao addio amico mio oh cos'è stato cos'è questo rumore c'è qualcuno oddio ciao cosa posso fare per te per me niente è il mio piccolo amico che vuole farsi un tatuaggio volevi le tue iniziali mano vero ok facciamolo per favore non muoverti è insopportabile accidenti hai solo dieci minuti cosa aspetta no sono condannata vuoi giocare eh vieni qui aspetta resta dove sei fermati è troppo veloce devo riflettere sono certa che c'è un modo per catturarlo vieni qui piccolo preso ah non muoverti rimoni palmo non mi lasci altra scelta ora ti congelerò ecco fatto finalmente posso fare il mio lavoro devo fare questo con molta attenzione altrimenti me la devo vedere con mercoledì ottimo ti piace ma non fammi vedere mi piace grazie oh grazie a te ho fatto del mio meglio che bella mancia grazie che dolizio mi sono impegnata tanto e mi merito uno spuntino goloso devo ordinare mi scusi eccomi sono qui ciao mi tatui questo unicorno sì ma non penso che tu sia abbastanza grande ma ho 350 anni vedi bel tentativo comunque no sei minorenne mi dispiace ma non è giusto uffa oh ti prego non piangere ciao volevo questo bel tatuaggio tipo qui oh va bene nessun problema lascia che ehi ti conosco sì è lo stesso unicorno e sei così basso ti ho già detto di no ora vai bene ma te ripeterai pipistrello che tipo beh è ora di chiudere domani è un altro giorno voglio vedere quanto ho fatto di mancia adesso sì è stata una giornata molto produttiva quanti soldi evviva sono una dottoressa adesso ehi c'è un'emergenza devo correre su quante deliziose caramelle wow buonissime e adesso deve essere qualcosa di extra dolce bingo io adoro i bastuccini di zucchero ciao ciao denti belli e sani è stato un piacere conoscervi il mio dente stupide caramelle devo farmi fa davvero male credo di avere una carie oh no cosa c'è che non va il mio dente ha mangiato troppe caramelle la febbre non ce l'hai non preoccuparti adesso arriva il vero dottore ma non sei tu il dottore aspetta un attimo ma questo non è un ospedale normale cosa vedo laggiù è un ospedale per vampiri non farmi del male non mordo mica una coda sei una sirena non puoi stare qui che significa? sei in un ospedale per vampiri è per vampiri umani e pipistrelli oh ma visitiamo anche le sirene vediamo cos'hai niente che io non posso risolvere adesso rimani fermo ancora qualche colpo d'accetta e ora è da segare apri un po' di più per favore questo dente non ne vuole proprio sapere che ne dici? ma ho le zanne come? avevo solo il mal di dente ora capisco tutto spero di avere abbastanza spago rimani fermo ok? adesso ti toglierò quelle zanne questo trucco funziona sempre no non farlo ok uno dottoressa credo si sia fatto male ha finito quello di paziente? non proprio stai bene? ha funzionato vero? ora riposati qui ok? grazie dottoressa finalmente posso mangiare che bel panino cos'è questo odore terribile? che strano sì ne voglio ancora non mi ascoltarò mai quando dico aglio extra per questo motivo ne ho sempre una scorta ma come fai a mangiare quella roba? è disgustosa? ma quel ragno? cosa? un ragno ehi oh no mi dispiace è la mia fine sono condannata ti aiuto io oh no ehi occhio stai bene? il mio collo sei nel posto giusto questo collare ti aiuterà ti senti meglio? grazie la tua coda è conciata proprio male lascia che ti aiuti scusami fammi vedere con i raggi X non preoccuparti la sistemerò io in men che non si dica guarirà adesso devo solo stare prima ne hai proprio sicura? fa ancora male ci penso io tieniti forte che strano ma dove è andato? mi dispiace ma io odio gli aghi va bene fa niente ora guarda attentamente nei miei occhi ok ci sto provando ora sdraiati e rilassati sii proprio così e dormi bene dove mi trovo? ma mi sono addormentato queste non sono mie adesso lo sono è tutto a posto aiuto che strano sogno cosa sta succedendo? è tutto ok è guarito bene grazie aspetta mi fa male la pancia dottoressa ho bisogno di aiuto cosa c'è che non va? mi fa male qui fammi vedere più da vicino scusa ma è freddo ma in questo modo posso vedere dentro vediamo cosa c'è beh che strano guarda quante sirene che ha detto? sei incinto? non posso essere incinto aaaaaah ups errore mio il mio ultimo progetto artistico fammi quel coso ehi fammi uscire da qui forza sono solo stitico scusami tanto devo andare in bagno si beh vai pure sento un ronzio ma quella è una zanzara so esattamente cosa fare sangue fresco ehi tu vuole uno spuntino? oh oh credo vogliano me smettetela di seguirmi vi prego ehi che succede? qualcosa vi fa male guarda che roba non voglio diventare una zanzara andatevene e non tornate più finalmente non ci sono più stai bene? che cosa hai fatto? mi serve il suo aiuto dottoressa è un bel pizzico ti aiuterò io ecco wow grazie com'è freddo ma mi sento già molto meglio meno male ti ho portato degli spuntini mangia ma è cibo? sembrano bulbi oculari un momento anche una salsa speciale è una specialità dei vampiri insaporisce tutto ok ecco qua che buon odore immagino che devo assaggiare ma perché è così viscido? salute sì credo o la va o la spacca il sapore è strano com'è? stai bene? non lo so non mi sento bene cosa è successo? il cibo è ok e la salsa? oh è scaduta e ora cosa faccio? aspetta io lo so devo rimuovere il veleno cosa? ma mi sono addormentato dottoressa cosa fa? ancora un minuto ecco che schifo preferisco di gran lunga il sangue grazie dottoressa devo andare non così in fretta prima devi pagare il conto? non credo di avere contanti vediamo che cosa ho ehi guardi e questo cos'è? una conchiglia siamo a posto? grazie non credo proprio voglio dei veri soldi non ne ho chi ne dice se la pago con il sangue? niente contanti il sangue va bene grazie al cielo un po' di sangue di serena in arrivo non male vero? sì continua così ho la cuolina in bocca sì devo resistere ancora un po' poi mi lascerai in pace eccoti qua delizioso alla salute ottimo vero? non lo so c'è qualcosa di strano ma era tuo? eh già non ne sono tanto sicura non stai mentendo vero? un pomodoro no come c'è arrivato? non è un problema posso diventare vegana perché no? buona vita? perfetto chi è? il mio amore? mi ha lasciato come potrò mai andare avanti? cosa c'è che non va? vediamo finora sembra tutto a posto ma quel cuore rotto deve sparire vado amico questa cosa è distrutta cosa gli ha fatto questa ragazza? come c'è finito dentro? ok tieni duro rotto proprio come sospettavo credo di avere un cuore di riserva da qualche parte no ehi è qui la misura giusta e le pompe come un campione un esemplare perfetto dentro voi ok svegliati come sta il mio cuore? andrà tutto bene tesoro vuoi sorridere per me? perché mi fissi? hai un aspetto diverso ti amo dottore aspetta ci sono quasi riuscita mi ami? è solo il tuo cuore nuovo ferma sono innamorato di te per favore rallenta farò innamorare le ragazze di me di sicuro perché sono il re delle sirene wow e Timmy che bello e ragazze ciao Timmy fatemi passare ehi bello scusa? nerd la mia collana oh no oh no oh no che schifo oddio ho visto la mia coda sei proprio come me no mamma sirena nerd ehi di chi è questa conchiglia? oh cosa sta succedendo? dove mi trovo? oh cosa abbiamo qui? uno screen vediamo cosa può fare forse una caccola nell'orecchio soluzione per i brufoli ah ecco cosa serve ahi oh no da dove viene questo vulcano? devo fare un salto che schifo e dai grande aspetta che razza di guscia è quello? il pesciolino è incastrato in un brufolo super gigante tieni duro piccolo mio ti salverò finalmente oh ehi che maleducata a pensarci bene non è affatto male i brufoli sono ancora lì oh oh cos'era? cos'hai per me? una conchiglia oh wow proviamo questi prodotti sui brufoli il colore di queste toppe si adatta al tema oceano scopriamo presto se funziona davvero o meno mi sembra un po' buffo oh mi formicola così tanto oh sono ancora brutta la mia pelle è così secca oh lo so stupiscimi ancora che cos'hai lì? un gadget di bellezza oh incredibile rendiamola ancora più bello con le scintille di scrub marino dei Caraibi mettiamole qui guardate un po' ho un colore splendido wow ma mi serve della schiuma oh oh dovrebbe bastare giusto qualche goccia ora preparatevi per oh oh chi è? oh sono io non ho più bisogno di te ora strofina delicatamente sulla pelle oh sento che sciacquo abbia lo sporco dalla pelle oh è fatta? oh così pulita mi sento strana oh è secco e irregolante perché le ragazze devono subire tutto questo? au au io chiamiamo i rinforzi allora oh arrivo tesoro c'è qualcosa che posso fare per te? oh piccolo aiutami a recuperare la pelle okidoki sentite non so che faccio io il resto è un po' vicino ma fammi i rinforzi per la pelle 30 minuti dopo grazie per il tuo duro lavoro piccola non c'è di chi signora mia? ciao ciao bello oh beh certo renderanno la mia pelle più elastica proprio così proprio così facciamo così oh così rilassante più mani per favore sì provate questa spa per il viso ragazzi morbido come il sederino di un bambino oh no ogni occhio è da panda sembra una signora anziana cosa c'è? ok ok lo aprirò non sono sicura proviamo eh no non succede niente forse oh finalmente è aperto ok che schifo che schifo questo deve andare qui credo esatto un altro per l'altro occhio e questo forse qui perfetto ora leggiamo nell'attesa ah interessante una bella sfrondatina selfie ops è ora di toglierle non vedo l'ora di vedere il risultato ta da oh perfetto oh oh cos'è? oddio sembro il diavolo lo scrigno questo è ciò di cui ho bisogno mi sto preparando ah santo cielo perché sono così pelosa? e ce ne sono altri aiutami tritone oh santo cielo quando finirà? ah finalmente libera dai capelli del diavolo che schifo oh Tim il mio principe azzurro saremo presti insieme amore mio il mio amore per te è profondo come l'oceano ah ancora non ci siamo ho bisogno di un trucco incantevole per affascinarlo meno male che la mamma mi ha insegnato un paio di cose su come militizzarsi per sfuggire agli uomini cattivi dare colori tenui che ricordano alcune creature dell'oceano applicare delicatamente sulla pelle ecco ah bello questo look squamoso è molto bello oh ho un'idea abbiamo bisogno di qualcosa di diverso una texture e un motivo diversi per vari colori ecco il blu e il rosa per tutti i miei amici corallo wow mi piace ehi attento forse vuoi qualcosa da bere oh tu certo prendo da bere serviti pure grazie oh aspetta un attimo questo è un ottimo trucchetto credo spero che le mie labbra siano rosse come ciliegie esattamente quello che mi aspettavo alghe non posso credere di essere così disgustosa è quello che mi serve oh è un po' intimidatorio attenzione wow non me lo aspettavo una piccola perla bianca perfetto per gli accessori oh piccole perle piccoli fiori inondami con la tua bellezza alcuni incantesi mi fanno miracoli oh wow aspetta le mie mani dimmi che non è vero devo fare qualcosa scrigno aiuto grande sai sempre cosa mi serve ok proviamo prima questo chi non ha bisogno di un bel trattamento spa per le mani fatto pulite e fresche santo anemone non abbiamo ancora finito spero che funzioni vedremo un guanto interessante sembra un impacco freddo per le mani ed ecco svelato wow è ancora meglio di quanto avessi mai sognato che cos'è la conchiglia? dei cattivi stanno cercando di catturarmi di nuovo incredibile aspetta è ora di un altro incantesimo soffice cotone idrofilo boom wow bel top ho bisogno di una firma del mare profondo sì certo che devo indossare le conchiglie wow sono così orgogliosa di me oh per favore in nome del tritone che roba è? è terribile spero che questa cosa possa risolvere il problema oh spolverino di fiume in soccorso una sola passata e sono spariti impressionante oh glitter e se io? facciamo piovere i brillantini su di me ci siamo quasi oh sì glitter non sbagliano mai ora l'ultimo tocco sono pronta grazie scrigno ora dov'è la mia ricina? una conchiglia mi sembra di sentire qualcosa viene da qui wow si muove ciao cosa? Rachel? ehi Timmy wow sei diversa davvero? sto cercando una regina quindi che ne dici? sì perfetto no sabbia è la migliore è l'unica e sola regina sirena di tutti gli abissi marini assomiglia così tanto all'oceano sì adesso mi voglio fare un bel tuffo uno di questi giorni beccherò che è che schizza l'acqua da tutte le parti bene alla mia lista di cose proibite in piscina aggiungerò sirene fai niente accipicchi ho bisogno di un medico mi andare per favore aiutami chi sei tu? non sei un vampiro questo è un ospedale per vampiri vedi? vampiri, umani, pipistrelli anche le sirene ok stai ferma cosa sta succedendo? devo aggiustare questi denti tieni duro adesso arrivo fino in fondo tieniti forte ok? ed ecco finalmente fatto oh ma che strano cosa delle zanne davvero ma non ha senso oh tesoro se vuoi posso sistemartele ma che ti credevi? sciocchina respira profondamente e conta fino a dieci ti aiuterà a rilassarti pronta? e via! aia! ho un brutto presentimento accidenti hai strappato il dente sbagliato mi fa male lo stomaco immagino che dovremo sistemarli di nuovo apparecchiatura ultrasuoni per favore grazie potrebbe solleticare un po' niente di cui preoccuparsi stai calma adesso la sentirai vediamo oh wow sei piccole sirene sirene? quindi questo significa che congratulazioni sei incinta? cosa? mi stai prendendo in giro? era solo uno scherzo dammela faccio da sola cosa ci sarà? io voglio uscire da qui oh no devo andare in bagno grazie ho fame cosa ha questo odore? è da qui che proviene quella puzza cacchio è aglio no 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 l'aglio no l'aglio che succede? stai lontana da me? oh 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 il mio collo oh aiutami certo che belle perle cosa? che tipa? perfette per i miei accessori oh sì guarda che bel tutore per il collo che ho creato per te potresti cosa mi hai messo? grazie mille non c'è di che devo sdraiarmi grazie ora va molto meglio ahia mi fa male la coda ok capisco dobbiamo ingessarla andrà tutto bene bene è fatto oh ahia ehi mi hai fatto male scusami questo dovrebbe aiutarti a stare più tranquilla oh dov'è è finita? per favore per favore non ho paura degli aghi ok fa niente oh adesso dormi piccola sirena ah ma che fai? per tutti i tritoni che succede? e fatto oh era solo un sogno questo va qui e questo va lì e fatto oh insetti oh oh beh grazie per avermi salvato la vita non preoccuparti è il mio lavoro ora tornerò nell'oceano per tutti i mari perché succede tutto a me? mi gira tutto non riesco a respirare cosa le succede? è ancora viva il suo cuore è spezzato devo fare in fretta ho un cuore da riparare gli strumenti sono pronti riparare un cuore spezzato è la mia specialità oh com'è complicato non funziona ok proviamo con questa forse ho bisogno di una siringa più grande ecco ora mirerò il cuore sì vieni qui cuore spezzato oh si è spezzato in due non si può più riparare beh fortunatamente ne ho un altro quale dovrei scegliere? questo andrà bene adesso entra dentro e via era solo un sogno non chiamarla più ha chiuso con te addio ecco come si fa oh oh sei la mia eroina oh vabbè grazie mille hai sistemato il mio cuore spezzato non c'è di che io io ehi cosa c'è? di nuovo le serve dell'acqua ho una nuova missione occhiali da sole tre paia per avere la massima protezione mi devo ricordare la protezione solare bisogna applicarne tante i vampiri non possono esporsi al sole e un ombrello andiamo sbrighiamoci che il sole è troppo luminoso per me ok ci sono quasi che fatica avanti rotola rotola dai che ce l'ho quasi fatta sì sirena svegliati ehi sirena perché non si sveglia? stai bene? oh no mi hai salvata di nuovo sono così felice oh ci sono usciti a me sono tutta bagnata figo vero? sì ti piace giocare con l'acqua come ho creato questo look ma certo che volete ehi lasciami in pace guarda che te ne pentirai ehi ma cosa vedo? Rachel sarà in diretta wow se solo potessi baciare quelle labbra oh era proprio necessario ma io ti amo perché non vieni a vedere il mio spettacolo? eh? davvero? ma è solo per le sirene troverò una soluzione da questa parte benvenuta nella mia cameretta oh ciao Timmy non credo proprio ok andiamo mi dispiace tanto ma ho un piano geniale e mi servirà questa conchiglia diamoci da fare vediamo se la via è libera wow e ha funzionato qui è tutto a tema Rachel è perfetta è perfetta bene facciamo cos'è questo odore terribile? qualcuno ha dimenticato di portarvi la sbazzatura? la cena è quasi pronta Timmy questo pesco è davvero fresco l'odore viene da qui grazie ti voglio bene ma è il mio pesce io ho bisogno di tante squame ma stai prendendo le squame da un pesce? vorrei essere come lui bene diamoci dentro ti piace quello che vedi? non esattamente quando è stata l'ultima volta che sei andato dal dentista? non vanno bene? non tanto ma controlliamo la coda la coda? ma ho ancora i piedi e puttano ma aspetta un secondo credo di avere un'idea sei veramente bravo a cantare grazie mille oh scusami tanto ma ho del lavoro da fare sono un genio del crafting e ora devo darvi da fare facciamolo adesso vi faccio vedere cosa so creare sto facendo delle squame ed ecco che la coda prende forma aggiungiamo le pinne molto bene sembra una vera coda da sirena ora devo provarla questi non mi servono più come sto? sono una sirena? oh cavolo ma che figura posso sistemarla con un po' di nastro o forse molto nastro lo userò come se fosse una specie di cintura come faccio a sapere quando smettere? e fatto! una bellissima coda sì ora sono pronto facciamolo piano cosa? questo lo devo pubblicare? esilarante puoi entrare grazie mille prossimo fermati e quella sarebbe una coda da sirena? non esiste vattene ma perché? devo entrare non ho tutto il giorno io come sto? è quello che pensavo è così ingiusto? ma come posso fare? tu! questa è mia! ehi devo coprirmi ho fallito non vedrò mai la ragazza dei miei sogni non è giusto aiutami povero ragazzo che ne dici di un piccolo aiuto? cosa? è per me? che cos'è? Rachel vuole aiutarmi? ah ok l'operazione vedere Rachel in diretta è ancora in corso ma non conciato così niente più squabe finte ora chi è quel figo che vedo nello specchio? ah stupidi brufoli ecco fatto com'è soddisfacente la mia pelle ha bisogno di essere idratata e questo è proprio ciò che mi serve oh che bella sensazione così rinfrescante ma perché ripruse così tanto? non capisco aspetta un attimo per cani scusa perché non usi questa maschera? contiene estratto di alghe grazie spero che funzioni le alghe e le loro proprietà magiche mi riposerò gli occhi per qualche minuto che vita vedi Rachel? è tutto per te wow sono così fortunata oh non con la maschera ovviamente ora ho la pelle super pulita ha funzionato proprio bene mi piace sono contento cosa sta succedendo? vattene via ho l'alito pesante o altro da dove viene questo coso? colpa mia immagino sia arrivato il momento di fare qualcosa con questi denti sono proprio brutti dici sul serio eh? ecco puoi ringraziarmi dopo wow grazie mille ora devo solo masticare oh sì le mangerò tutte wow solo alla venta la mia mascella si sta staccando un po' saranno già bianchi? c'è solo un modo per scoprirlo vediamo ho masticato un sacco di gomma wow ma non finisce più ecco fatto è arrivato il momento della verità cosa sono tutti quei peli? posso aiutarti io? davvero? oh ehi ma è per me non posso crederci un rasoio elettrico? ma è proprio quello che mi serve addio monociglio e ora passiamo ai baffi facilissimo liscio come la pelle di un bambino ah perfetto beh quasi ho la barba sotto le ascelle addio ma quanti peli hai? wow guarda come sono fico adesso cosa ne pensi Rachel? hai qualche pelo? beh sai non sono miei prendo questo com'è pesante cosa c'è qui dentro? non posso credere ai miei occhi quanti colori e quanti brillantini wow è il mio giorno fortunato ok diamoci dentro non mi prenderai mai wow ora sono cavoli tuoi aspetta un attimo cos'è questa musica? bel ritmo aspetta un attimo tu devi venire alla centrale avanti ti piace? aspetta non riesco a vedere la tua faccia ah mi servono gli occhiali credo ma manca ancora una cosa vieni questi occhiali sono terribili questi sono molto più carini guarda Timmy wow riesco a vedere ehi mi piaccio evviva ora ti serve solo la coda prendi cosa? scendati ok grazie almeno credo che cos'è? non finisce più oh oh ecco una coda tutta mia non posso crederci e mi sta manca ancora la parte di sopra devo fare qualcosa molto meglio ehi non vedo più niente wow sono innamorata sto venendo prenderti Rachel e questa volta mi faranno entrare perché ora sono una sirena ciao a tutti è fantastica wow com'è bella che bel concerto mi sono perso qualcosa sono qui Rachel oh chi è quello? salve sono così felice di conoscerti dal vivo siete così romantici è l'unico vero amore di Rachel non credo proprio cosa? cosa mi è successo? devo andarmene Rachel? beh direi che non è andata come previsto vabbè l'ora di cena è il mio momento preferito che belle salsicce devo mangiare la mia dose giornaliera di carne fresca chi è? dottore mi aiuti mi fa male la testa un umano ecco la mia cena vieni qui stai fermo e fai silenzio ora tu sei la mia cena che bel banchetto cos'è successo? giuro che di solito non va così non c'è più sono rimasti solo i suoi vestiti che strano addio pazzoide salve dottore puoi aiutarmi per favore? un'altra creatura non mi lasciano mangiare la mia cena una ragazza pesce ai miei denti vieni pure signorina ai mi fanno molto male fammi vedere i denti sto soffrendo per favore li sistemi rilassati credo di sapere qual è il problema lasciami prendere il mio strumento oh eccolo bene preparati ah per favore non farmi male ma ho le zanne figo vero? no ma perché? faccio schifo perché mi hai fatto questo non preoccuparti fammi non c'era cosa c'è che non va? devo solo tagliare questo filato vedi? ora togliamo quelle zanne apri la bocca ok stai ferma farà male? non preoccuparti andrà tutto bene non sono tanto sicura ho quasi fatto ok eccoci qua accidenti ora mi mancano due denti mi dispiace tanto questo panino sarà più buono con la maionese all'aglio sì adoro l'aglio bene vieni della mamma cos'è questo odore? aglio? lontano da me credo di sapere come fare delizioso oh no dottore il mio stomaco il tuo stomaco ok controlliamo che freddo vediamo cosa riesco a vedere vediamo sullo schermo ok c'è un banco di pesciolini sono incinta? beh credo ops cosa? fammi vedere controllerò io stessa non posso essere incinta vediamo voglio uscire da qui che schifo grazie al cielo non sono incinta ora devo andare in bagno fa pure con calma che noia fammi vedere cosa c'è qui c'è un ananas no una ciambella no dei soldi questi li prenderò io forza ci deve essere qualcosa delle perle le migliori amiche di una sirena e anche una conchiglia devo fare una chiamata pronto? oh sì ragazza pesci sì sì che c'è? il mio collo mi fa male so cosa fare andrà tutto bene ma sono così brutta no 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 non piangere aspetta ho la soluzione userò queste perle per decorare il tuo collare come sono graziose sarai la sirena più bella in tutti i mari mi piace? wow è bellissimo sono contento ora posso finire la mia cena oh il mio collo non preoccuparti ci penso io non posso farmi vedere in giro conciotto così sei così figo grazie aiuto e adesso la situazione è difficile ho sanotte stai serena ragazza pesce non c'è niente che un'ingessatura non possa sistemare la tua cosa tornerà come nuova in pochissimo tempo accipicchia basta urlare devi smettere ti farò una bella iniezione per farti stare in titta per un po' ora sono pronto ma dov'è andata? ragazza pesce dove sei? ti sei nascosta sotto il letto eh? beh sappi che non puoi nasconderti da me no per favore no non voglio che scappi più somnia tenebris che la notte di culi dottore cosa sta oh che bel pisolino ho fatto la tua coda un piccolo restyling è terribile toglimi questa robaccia questa è impazzita che finale l'ha aspettato che sì non c'è più non è possibile devo mangiare qualcosa eh dottore adesso che c'è? sono qui per dirle addio beh non posso dire che mi mancherai ma prima fammi preparare un souvenir o meglio il conto ci sono ed ecco qui la tua ricevuta per tutti i tritoni 150.000 euro è impazzito non ho così tanti soldi guardi ho solo tante cianflusagne ma niente soldi aspetta un attimo ho un'idea ottima idea non avevo dubbi il sangue di sirena è molto più prezioso dei soldi ecco saldato il mio conto sì per me va bene il sangue di una creatura marina è così prezioso è così dolce ti sei cascato il mio tesoro cosa? mi vuoi lasciare? non può essere il mio cuore è appena stato traffitto da mille coltelli non posso più vivere cosa c'è che non va? il mio cuore si è spezzato oh no non va bene devo sistemarlo non preoccuparti adesso farebbe il sonnellino come? destra sinistra destra sinistra ottimo lavoro adesso posso ripararti il cuore oh no il cuore non batte più devo sbrigarmi ecco ci sono ma che schifo strane conchiglie devo estrarre tutto il liquido questo cuore non si può riparare devo metterne uno nuovo eccone uno rosa via il vecchio dentro il rosa ed eccoti un cuore nuovo sono così orgoglioso del mio lavoro è di nuovo viva incredibile ehi sveglia 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 sono viva mi hai salvata non c'è di chi oh mio eroe aspetta ragazza non sono mica un tritone addio che tipa strada quella è ora di bere il mio tolato sangue una zanzara ehi lasciami stare maledetta zanzara lascia che mi coda il mio sangue no questo insetto mi ha rotto le scatole basta adesso si stanno moltiplicando non posso farmi mettere K.O. da quattro insetti se ne sono andati bene ora posso finalmente bere aspetta cosa? per tutti gli scheletri direi che è ora di andarsene addio andate via ciò 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 ti prego lasciatemi stare dove sono? non riesco a vederli venite zanzare ecco il vostro sangue buon appetito addio finalmente aspetta cos'è successo al mio sangue? il mio prezioso sangue è sparito oh no un barlume di speranza ogni singola goccia è importante è una questione di vita o di morte non si spreca il sangue me ne serve dell'altro aiuto 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 salve dottore oh no sangue mi serve sangue al tuo cielo sto morendo dottore stia alzi ecco prende il mio sangue questo sì che ho dei desideri lunga vita sento il potere le piace il mio nuovo look? adesso è un angelo della morte amami mio angelo io ti amerò profondamente vuoi essere la mia ragazza? certamente wow che bella ragazza eccomi oh fammi passare ehi levati la mia bevanda wow wow che male ma ne valsa la pena che spettacolo che brutto adesso ci provo ok accidenti ecco che arrivo oh che sfiga oh che peccato ok ci riprovo i miei denti sono cascati non esco con un finto vampiro nerd sei solo un perdente un perdente devo fare qualcosa cavolo che giornataccia non ho più i canini poveri denti oh ehi che rivista è questa? il mondo dei vampiri wow che bei pettorali chissà se voglio somigliare a lui oh ci sono è arrivato il momento della mia trasformazione oh sì wow wow ma sono veramente così? oh no quanti brufoli accidenti cosa posso fare? oh sono davvero brutti da vedere cosa posso usare? oh le mie penne devo solo togliere l'inchiostro spero che non faccia male fatto ancora un po' devo dire che alla fine funziona l'ultimo ho fatto un boost ups ho fatto un danno oh oh l'ho ridotto male oh no è il mio nonno adesso ti pulisco oh scusami nonno ora mi devo pulire la faccia ecco fatto wow il tuo viso è perfetto ma cosa posso fare con i capelli? non vanno affatto bene forse con un po' di gel ed esci penso che sei tasato non sta uscendo niente ah non funziona a male estremi estremi rimedi uno due tre evviva aspetta ti prego non dirvi che l'ho fatto di nuovo oh oh sei tutto sporco oh no di nuovo mi dispiace tanto nonno ora mi serve il gel ecco fatto ah beh grazie nonno dunque ora dov'ero rimasto oh sì i miei capelli ci voglio aggiungere anche un po' di glitter e il nero è il mio colore preferito così dovrebbe bastare meno male che ho sempre un bastoncino per mescolare voglio che sia tutto amalgamato e deve essere anche molto denso tra poco avrò i capelli fichissimi ecco ora sì che va meglio userò le mani fantastico oh sì e si applica senza problemi non male oh wow ora sono irresistibile ma gli occhiali devono andare oh eccomi ora sto proprio bene ma non riesco a vedere dove sono le bilette a contatto ok ci sono quasi voglio vedere oh wow ora è tutto molto più chiaro vedo ah i miei denti ah devo fare qualcosa credo che basterà un po' di filo interdettale basta mangiare tutte quelle insalate ma è davvero enorme disgustoso forse c'è dell'altro ma da dove arriva tutta questa roba aspetta sento qualcosa non ricordo di aver mangiato un dito aspetta un attimo è il mio di dito era la mia colazione delizioso direi basta fare merenda ehi cos'è questa luce mi sta cecando au cosa sta succedendo che cos'è wow credo sia un diamante che bello penso di poter farci qualcosa quasi fatto che bei denti che ho adesso ottimo ma non si appilano i miei vestiti non ho nulla da mettere devo fare un po' di shopping sì ma quello è un non importa qui è tutto così colorato mi serve qualcosa di super elegante fammi pensare questo 100 euro e questa oh troppo costosa ma quanti soldi ho un po' come niente più che altro c'ha frusaglie oh ma niente soldi so cosa fare ehi oh salve voglio tutto questo per favore ok il totale è 155 euro sicura oh soldi per favore grazie non c'è di che è stato facile wow questa roba mi sta a pennello persino le scarpe ora sì che sono pronto salve signorine oh wow che carino accidenti ciao oh wow ma non ti calcolo devi dimostrarmi di essere un vampiro ma cos'è è una specie di sfida non so se riuscirò a fare tutto questo che diavolo ok cosa devo fare prima di tutto questo vedi cerca di ipnotizzarmi ok vuoi baciarmi sì guardami negli occhi voglio baciarti sì proprio così oh oh cosa che cosa è successo un bacio ma come perché hai del rossetto perché vi hai baciato ricordi lasciamo perdere passiamo alla prossima ok sono pronto farò qualunque cosa ok quest'aula va bene ma è un po' disordinata vedi tutto il disordine sì pulisci ok ma velocemente per favore ok da dove inizio vediamo lì oh ehi rece come stai oh ciao come stai sto bene sono un normale martedì la sedia è dentro il cavalletto è pronto coperchio messo nessuno può fermarmi re ce l'ho finito wow no 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 non le sedie cosa sta succedendo wow sì sì certo sono assolutamente d'accordo oh ragazze wow oh 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 wow vabbè io me ne vado ciao dimmi che cosa hai combinato ups mi dispiace sapevo che avresti fallito io avevo pulito per davvero ti prego devi credermi non ti credo ti prego ti prego ok passiamo alla fase successiva posso ancora vincere vedi questo bilanciere questa è la tua sfida la forza provaci ok sarà facile mi sono già riscaldato e su visto lo sto facendo davvero impressionante accidenti non ce la faccio tienilo su ancora aspetta questo bilanciere è d'argento scotta mi sta scivolando mi hai fatto solo perdere tempo rachel aspetta la prossima sfida è la vista cerca di trovarlo farò qualsiasi cosa devo nasconderlo non guarderà mai qui dentro perfetto il tempo inizia ora il tempo scorre questo non mi serve ok se fossi un giocattolo dove sarei? viviamo wow oh ahi che male oh cos'è successo? oh scusa forza Timmy mostrami che sei un vampiro che cosa abbiamo qui? del sangue fresco forse? non ce n'è così tanto non preoccuparti ti aiuterò io guarda che bel cerotto ora va meglio ma che cosa sto facendo? beh grazie non c'è di che ci vediamo ok il tempo è finito me ne vado oh no oh rachel fermati per favore fammeli provare voglio un'altra possibilità quelle tende ho un'idea sì dove stai andando? cosa? sei pronta? no e luce fu ora sono cavoli brillo come un diamante vero? sì oh wow ma guardalo wow vedi? sono un vero vampiro e tu perché non brilli? posso spiegare tu tu non sei un vampiro resta una sola cosa da fare dammi quei denti finti oh ehi te l'avevo detto è una falsa non può essere rachel aspetta oh che figura rachel oh eccoti qui rachel perché stai piangendo? non sono una vera vampira se vuoi posso aiutarti ma come? te lo dimostrerò grazie ai miei zanni ok sei pronta? oh non ho sentito niente sta succedendo sì ora sono un vampiro grazie vieni con me oh davvero verrei ovunque con te Timmy oh aspetta devo sistemare il mio trucco è così carina wow ma guarda un concorso per vampiri sarà il miglior vampiro cento euro sono un sacco di soldi oh cercasi Tata fammi vedere più da vicino ho un'idea farò la Tata non ho un'idea